Presto a darvi su questo canale, The Xpander Bros, un gioco dove la mascolità non è mai abbastanza. Probabilmente anche nel futuro, Double Action Boogaloo, un gioco dove Max Payne Matrix e tutte le altre strozzate sono messe assieme per un gran mix di Zomo Action. E, come se non bastasse, chi più ne ha più ne metta, Contest, una free key di Left 4 Dead 2 per giocare con me e probabilmente con quegli altri cretini dei miei amici.